Musica Hola amigos, benvenuti in questo nuovo video Oggi è uscito Disney Plus Andiamo alla scoperta di questo mondo Disney E allora, qua ci sono solo film per i grandi E' andato su Star Wars Vediamo se ci sono dei film per... Vediamo Disney Eccoci qua Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic Vediamo cosa c'è a Disney Ci sono anche le serie TV, è originale No, 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 è ricca di Disney E' tan fatti ma C'è Ligia il vagabondo Frozen Frozen E l'altro cos'è dopo Frozen? Cosa c'è? Quello lì cos'è? Non lo so E' Re Leone Questo lo conosci? Sì Questo? Questo è il libro della... Giù? Sì Baloo Bravo E quello cos'è? Sì Questo cos'è? Oceania Oceania Questa lo conosci per forza? Ala? Ala Ala Jin L'altro è il tuo preferito? Non l'hai mai visto forse quello originale? No, sì E questa? Questa l'abbiamo già visto? Bianca neri Bianca neri Questo non l'hai mai visto? Big Hero 6 Zootropolis l'abbiamo già visto Questo è per maschi E questo è per maschi Dici? Questo? La sirenetta La sirenetta E questo l'hai visto anche ieri? Si chiama Ariel Questa invece? La sirenetta si chiama Ariel Si certo E poi? E porca monza E nata Ariel C'è anche Bambi 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 E poi questo La bella La bella addormentata nel bosco Si La bella addormentata nel bosco Peter Pan l'hai visto? Si l'ho visto Hai visto? Si l'ho visto nel telefono Vediamo cosa c'è nella pizza Vediamo Nella pizza cani Nella pizza cani Nella pizza cani Dove ci sono tutte le pizza Davvero? In side out Hai visto una cosa bellissima Cos'è? Questo qua Con una forchetta Questo è un corto Adesso lo guardiamo Questo qua Vediamo cosa c'è E poi guardiamo quello E' pure un testo Si quello l'abbiamo visto Coco Alla ricerca Questa è Nemo? No è la ricerca di Dora La ricerca di Dora No è Nemo È Nemo È Nemo Monster & Co Questo è quello di Toy Story Ci sono tutti Ho guardato prima E questo E questo è il piccolo vostro? Si Ho guardato il cavallo dei nonno Enzo Eh si Quando tutto Ha vedevi Poi Nemo E poi è questo qua Qual'è? Io si Te lo sai qua No Cars Cars Va bene Vuole vedere questo allora? Questi sono tutti i corti Perché sono tutti i corti Dimmi Ma ho visto questo e questo E ci si che le hai visti Allora guardiamo un corto I trambi Ma quando le hai visti? Le ho visti quando ho girato pagina Ah Allora guardiamo questo? Salutiamo e guardiamo questo di forti? No Dai Vuoi vedere quello? Si Saluta che andiamo a vedere Vieni qua Ciao